E da oggi il nostro notiziario si arricchisce di una nuova interessante rubrica dalla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano e AppiWeb Radio ogni giorno all'interno del Video Sicilia News troverete il meteo. Ascoltiamo le previsioni per oggi lunedì 4 gennaio. Previsioni meteo per la giornata di lunedì 4 gennaio 2021. Amici di AppiWeb Radio e Video Sicilia, un bentornati da Paolo Di Bella. Giornata di lunedì condizionata dall'azione di un vortice depressionale centrato sulla Corsica che porterà condizioni di spiccata instabilità un po' su tutto il nostro paese. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per la Sicilia. Giornata all'insegna del tempo moderatamente instabile con temperature di qualche grado al di sotto delle medie stagionali. La nostra regione continua ad essere interessata da un'ampia circolazione depressionaria che abbraccia gran parte del Mediterraneo centrale dando vita anche sulla nostra regione a condizioni di tempo instabile. A partire dalle prossime ore, dopo delle parziali e temporanee schiarite, farà seguito nel settore occidentale e sud-occidentale della Sicilia un nuovo incremento della nuvolosità a cui saranno associate delle precipitazioni sparse. In prevalenza a carattere di rovescio con tendenza, nel corso della giornata, ad estensione della nuvolosità e dei fenomeni al settore centro-settentrionale dell'isola. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso lungo i rilievi montuosi al di sopra dei 900 millimetri. Altrove, specie sulla Sicilia orientale e sud-orientale, la nuvolosità risulterà meno compatta ed i fenomeni meno estesi ed intensi. I venti saranno da deboli a moderati dai quadranti occidentali e sud-occidentali, i mari generalmente mossi, temperature stazionarie o in lieve ulteriore calo. Con questo è tutto, ulteriori dettagli come sempre li potete trovare su www.centrometeosicilia.it o su AP Web Radio & Social TV www.centrometeosicilia.it 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 www.centrometeosicilia.it